E' arrivata la squalifica per Niccolò Fagioli, 12 mesi di cui 7 di esclusione dei campi e 5 di riabilitazione, dunque la Juventus non ce l'avrà più per l'intera stagione sportiva. Detto che questo secondo me è il giusto modo di punire un calciatore che sbaglia, ma credo che tra l'altro Niccolò sia completamente conscio anche perché se no non si sarebbe mai autodenunciato, adesso ci sono due problemi, anzi due cose da capire. Intanto come la Juve opererà sul mercato perché da agosto in poi ha perso prima Pogba e poi Fagioli stesso. L'altra cosa è capire e vedere quanti o quali altri giocatori di quale squadra subiranno le stesse indagini e lo stesso trattamento. Francesco Oppini, noto volto del mondo dello spettacolo, ha recentemente espresso la sua opinione sulla squalifica di Nicola Fagioli, calciatore della Juventus. Oppini sembra favorevole alla punizione inflitta al giovane giocatore per l'autodenuncia dei suoi errori. Tuttavia, egli lancia un'insinuazione interessante. La squadra della Juventus sembra essere spesso nel mirino di punizioni esemplari. Ma cosa succede agli altri giocatori di calcio coinvolti in scommesse il cui elenco è lungo? Francesco Oppini suggerisce che dovremmo attendere per scoprire quante punizioni esemplari saranno inflitte ad altri giocatori di diverse squadre. La questione delle scommesse nel calcio è sempre stata controversa. E sembra che Oppini voglia sollevare il dibattito sull'equità delle sanzioni tra i giocatori di diverse squadre. Solo il tempo potrà rivelare se le punizioni saranno applicate in modo uniforme a tutti coloro coinvolti in questo tipo di controversie.